Vuoi recuperare gli anni scolastici? Hai bisogno di assistenza universitaria? Il Centro Studi Pesaro da sempre è attento alla formazione, alla crescita e ai bisogni di giovani e adulti. I nostri tutor qualificati, attraverso lezioni in piccoli gruppi, individuali e online, sanno rispondere alle esigenze di ogni singolo studente, facendogli ritrovare entusiasmo e motivazione con percorsi personalizzati anche per lavoratori e sportivi. Tutto questo è Centro Studi Pesaro. Sapere, saper essere, saper fare.